A chi lo chiedi oggi il permesso per annelarti? Il permesso di metterti in forma te lo dai da te e solo da te. E come fai a dartelo? Prendendo controllo del tuo pensiero. Se lasci il potere agli altri, sei monopolizzato. Gli altri non ti autorizzeranno mai, perché per loro, malignamente oppure per amore, stai bene così come sei. Perché se cambi, crei un problema per loro. Non ti conoscono più, devono imparare di nuovo come rapportarsi con te.